Muppet Drinking Team, quarta giornata di campionato, 1-0 per la Muppet L'inviato a bordo campo mi ha appena detto che c'è stato un bellissimo gol di Fiore No, Bonillo, su un grande assist di Fiore Uh, forse il contopielo è un bruno, ma c'è il portiere Muppet Magnano A me mi hanno detto due scalini questi qua Si chiama Drinking Team Drinking Squadra di Carlo Abate Reduce da una brutta sconfitta contro i Maggi si 6-0 Nella partita di recupero della terza giornata disputata venerdì Alle ore 4 Saluto a Carlo Abate Il nostro video editor Edito il video Come cazzo si chiama? Qui si sanno? Ecco Grande giocata, bellissimo il gol Gol della Muppet Gottardo Gottardo Grande gol di Gottardo Oggi te l'ho ripreso, stai nel video, entrai in montaggio Non ce lo faccio Ciao Fiore 2-0 per la Muppet Direttamente dal Nippon Giappone Esperienza europea dei giapponesi della Muppet Grande Fiore Ancora Fiore Fiore ancora Scarta dovezza squadra Tira E' la grande parata di Mario Saggitto Saggitto Mario ha vinto anche il premio del miglior giocatore dell'incontro contro i Maggi La partita da 10 La partita da 10 Quisisano Ancora Quisisano Guardate che fa Quisisano Scarta 1 Luggero intercettiva Chiude il difensore Puyol Gottardo anticipa Carlo Abate Il fisico di Carlo Abate Niente, corre come Come non so cosa Viato Alessio Rivellini Io direi un tir con i capelli Un tir con i capelli Bellissimo Oh a giro Niente Deviazione di Ruggero forse O del tir con i capelli Non si sa Abate hanno trovato un nuovo soprannome C'è il tir con i capelli Non ti faccia Però da dietro sembra Ti ricordi Scuravi? No Come l'attaccante del Genova Vicino Aguilera Eh lo so ma io Non lo conosco a Scuravi Eh fatto di da Sergio Però non Ha messo mia Rassel Crew Guarda Rassel Crew Un po' I capelli di Rassel Crew Ce l'ha Spalle no Ma è solo il viso Fai il primo piano La parte di sotto Un po' basso l'assecco Fa pure più schifo l'assecco E' più bello che l'abate Guarda che stop di petto Gottardo riesce a chiudere bene Le manovre di Carlo Abate A staviglia da dietro A Scuravi Stavamo tutti Ma c'è per la guzzetta I calci Oh sul secondo Ehi a munizione Arbitro Calciato fuori Arbitro Dopo la mano di Dio La mano di Carl La mano di Carl La mano di 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 Che fa Fiore Fiore si sta un po' inceppando Ancora Abate Abate Abba ma Fiore Fiore il fisico ce l'ha Fiore Ma no niente L'ha sfortunato Si è inceppato Inceppato Oh Fiore Ancora Fiore Oh Fiore ancora E si perde Un biciclete d'acqua Ma trova forza Ok vengo subito Ci diamo il collegamento E ringraziamo tutti Per questo bellissimo spettacolo Che ci state dando Bravi ragazzi Un saluto a un particolare A Cusisano Uh che sta succedendo là È un picnic Si stendono a prendere il sole Morti e feriti Vabbè Chiudiamo il collegamento Ricacciate Sponso E schifiamo Ruggero Ciao 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 ciao